quello è un benefattore prima ci vorrà rosare muovere a tre se ci vorrà a tre macchiavilla macchiavilla si rufava zoola volta faccia no 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 aspetta passo di una cosa lo dico con il cuore io dove vedo che servono i soldi la se vanno attresi li do attresi se vanno a rosare e li do a rosare che è successo sali sali mi ti ho dato questa impressione che ho bisogno di soldi no però ti voglio dare io un regalo che i soldi un regalo che è soldi max che se ehi brava 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 brava